Come è nata l'idea di creare questa pinacoteca dedicata alla grande casata dei pittori Giorgis? L'idea è nata perché quando ho redditato io dovevo dare tutti i quadri al Comune di Toceno. Il Comune di Toceno non ha locali da fare una pinacoteca. Poi dovevo vincolarli che dovevano rimanere sempre riuniti tutti insieme. E questo non è possibile perché mi sono informato e lei da oggi le consegna la roba e domani loro possono venderla o farne quello che vogliono. E allora ho detto, aspetta me, prima che vadano persi faccio una pinacoteca qua in casa con uno studio e un locale che ho fatto nuovo, almeno così, rimangono tutti sempre della famiglia. Dopo quando cambierò domicilio allora lascerò poi la casa come casa museo, però sempre di proprietà privata perché altrimenti va a finire perso. Grazie.